GF VIP 7, ecco ascolti della ventunesima puntata. Nella serata di ieri, sabato 10 dicembre 2022, su Rai Una la partita dei mondiali di calcio Inghilterra-Francia. In onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 9,596,000 spettatori pari al 45% di share, primo tempo a. 000 il per cento, secondo tempo a. 000 il per cento. A seguire il circolo dei mondiali. Dalle 22 e 13 alle 23 e 2, interessa 2,795,000 spettatori pari al 16,4%. Canale 5 Grande Fratello VIP, dalle 21 e 55 alle 1 e 23, ha raccolto davanti al video 2. 482,000 spettatori con uno share del 20,7%, presentazioni a. 000 il per cento, Naita. 000 il per cento. Rai 2 Blue Bloods è interessato. 000 spettatori, per cento. Italia 1 pezzi vita da animali ha intrattenuto. 000 spettatori pari al per cento. Rai 3,6 pezzi facili. Il teatro di Mattia Torre sigla 000 spettatori con il per cento. Rete 4. Il ragazzo della porta accanto totalizza una M di 000 spettatori, per cento. Sulla 7 ed in un pianeta da salvare ha registrato 000 spettatori con il per cento. Su TV8 1 principessa a Natale segna 000 spettatori, per cento. Sul 9 Michael Jackson l'uomo dietro la maschera è seguito da 000 spettatori, per cento. Il fascino dei mondiali di calcio non tramonta mai, nonostante a disputare la massima competizione non ci sia la nostra nazionale italiana. Uno dei match più interessanti di Qatar 2022 è tari letteralmente sbancato gli Auditel. Poco da fare per il GF VIP, la scommessa di Alfonso Signorini è stata vinta solo a metà, ma con i mondiali in corso c'era quasi da preventivarlo.